Il deputato di scelta civica Angelo D'Agostino ha presentato una proposta di legge che inasprisce le pene per chi commette abusi sessuali sui minori, in particolare per quelli che non hanno compito 10 anni di età. Il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, spiega il parlamentare, ha recentemente presentato il primo studio sugli abusi intrafamiliari sui minori in Campania, dal quale emergono dati sconcertanti. Ben 200 casi nel periodo 2013-2014 in 45 comuni, le vittime sono in età preadolescenziale nell'80% dei casi, si tratta di bambine in età inferiore ai 10 anni nell'87% dei casi. Questi dati, aggiunge D'Agostino, richiedono innanzitutto di individuare validi percorsi di prevenzione che partono da una piena conoscenza di tutti i fattori che portano alla violenza sessuale sui minori. Una prevenzione efficace presuppone che ci sia una mobilitazione complessiva, attiva e partecipata, di tutti i livelli istituzionali, delle associazioni di volontariato impegnate in questo ambito coinvolgendo i bambini laddove possibile. Intanto però ritengo sia necessario partire dall'anasprimento delle pene per chi abusa dei minori, in particolare per quelli che non hanno ancora compiuto i 10 anni di età, cioè i più indifesi. Proprio per questo, chiude D'Agostino, ho depositato una proposta di legge che punisce la violenza sui minori di 10 anni con la reclusione fino a 20 anni.